L'arte è sempre stata l'arma più potente usata dalle elite, dalle grandi famiglie, per tramandare messaggi proibiti che parlano il linguaggio dell'esoterismo, dell'alchimia e della Kabbalah. I segreti nascosti nelle opere d'arte è un libro, è una rivelazione che cambierà il tuo modo di vedere l'arte. I sconvolgenti codici segreti sono inseriti nelle opere d'arte, ma gli studiosi, gli storici critici o non se ne sono accorti o non lo possono dire. È un libro che cambierà completamente il modo di vedere l'arte e la realtà. Buona lettura!